Sesta edizione dell'Usi Career Forum. Workshop d'apertura giovedì 7 marzo ore 17. Carriera al femminile, un'opportunità per le aziende, con la partecipazione di professioniste che occupano posti di responsabilità in differenti ambiti lavorativi. Expo con gli stand di oltre 50 aziende nazionali e internazionali, venerdì 8 marzo dalle 9.30 alle 16, con oltre 120 responsabili Human Resources a disposizione degli studenti e laureati che si affacciano sul mondo del lavoro. Tutte le info su usicarirforum.ch. Partecipa anche tu!